Gianni Morandi, Negramaro, Mahmoud, Mister Reyn, Comacose, Alfa, Paola Turci, Albano, Leonora Bagnato, Teote Ocoli sono i nomi che saliranno sul palco della perdonanza celestiniana numero 729 con l'arrivo del fuoco del Morrone il 23 agosto e l'apertura della Porta Santa il 28 ad opera del Cardinale Semeraro. Si alza così il sipario sulla perdonanza con la presentazione del programma a Roma nella sede del Ministero della Cultura, un cambio di passo notevole che la dice lunga sulla risonanza e attenzione verso la manifestazione celestiniana che oltre ad aver avuto il riconoscimento UNESCO da 4 anni ha trovato il suo apice con la visita del Papa nella scorsa edizione. A presentare una settimana ricca di appuntamenti irrinunciabili tra riflessioni storiche, spirituali, concerti, spettacoli e rivocazioni sono intervenute il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Gianmarco Mazzi, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, il sindaco dell'Aquila Biondi, il vescovo osidiale dell'Arcidiocesi Metropolita dell'Aquila Monsignor D'Angelo, il direttore artistico il maestro Leonardo De Amicis. Come sempre sarà un programma molto alto e cucito sulla città grazie al maestro. La serata inaugurale è prevista per il 23 agosto con Mahmood, Mister Renko, Macose, Alfa, Polaturci e Albano Carrisi. Torna anche in questa edizione il Gala Internazionale di Danza con la grande Leonora Bagnato il 24, Teo Teocoli ci sarà il 25, Negramaro il 26, Gianni Morandi il 30, ma non sono i soli, ci saranno tanti altri ospiti. Molto ricca anche la parte religiosa e folcloristica, il 23 e il fuoco. Dopo il suo lungo cammino arriverà davanti a Colle Maggio per dare l'inizio delle celebrazioni. Il giorno 28 è quello del corteo storico della Bolla, con l'esposizione di quest'ultima per 24 ore. Avverrà lì l'apertura della Porta Santa. Il cardinale incaricato, Marcello Semeraro, è prefetto del di Castero Vaticano per le cause dei Santi. Il 29 agosto la Porta Santa tornerà a chiudersi, terminando le celebrazioni della settimana celestiniana. Anche quest'anno insomma un programma ricco, anche dal punto di vista artistico, che cerca di accontentare giovani e non. Anche quest'anno insomma un programma ricco, anche dal punto di vista artistico,